Buongiorno a tutti, io sono Angela e tu se è il mio canale tutto dal web. Il volo si è giudicato la vittoria di sabato 24 dicembre 2022. Il concerto di Natale a Gerusalemme è stato seguito da 3169 telespettatori con oltre il 23.60% di share. Hanno battuto Rai 1 che invece ha postato il film Io sono Babbo Natale con protagonista Marco Giallini e Gigi Proiettivi. Ottimo risultato anche per Italia 1 che come da tradizione ha trasmesso il cult natalizio una poltrona per due. Il volo però con lo speciale da Gerusalemme per il concerto di Natale ha battuto tutti. E' stato il programma più seguito, una serata unica nel suo genere che unisce l'inconfondibile voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto. E' la suggestiva ovviamente atmosfera della Terra Santa che ha fatto sfondo all'emozione del concerto proprio nel periodo della festività natalizia. Il volo quindi si aggiudica la grande serata su Canale 5 nella vigilia di Natale. E voi l'avete seguito? Scrivetemelo se vi va nei commenti, lasciami un like di supporto e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!